Eugenio Gianni è il nuovo presidente della regione toscana, i cittadini hanno premiato la proposta del centro-sinistra, come commenta questo risultato e cosa ha fatto la differenza? Io penso che sia un risultato a salutare con soddisfazione perché abbiamo mandato in Piazza Duomo a governare la regione una persona competente e preparata. La differenza l'ha fatta la proposta credibile del centro-sinistra in regione e credo anche un buon clima verso l'amministrazione. Prato è il miglior risultato del PD dopo Firenze, credo che abbiamo contribuito anche nel lavoro fatto nel corso di questi anni. Derby politico tra Nicola Ciolini e Laria Bugetti, quest'ultima riconfermata per la seconda volta consigliere regionale in rappresentanza di Prato. La consigliera non ha nascosto un pizzico di amarezza rispetto all'atteggiamento di alcuni assessori della sua giunta che hanno pubblicamente sostenuto l'avversario politico. Ha detto avrei preferito un atteggiamento super partes, anche lei si era speso molto per Ciolini, come risponde? Io ho cercato ovviamente di andare a tutte le iniziative, tutte quelle organizzate al partito, sia dell'area da Nicola, senza niscondere quello che è stato il mio percorso. Credo che vada salutato uno straordinario risultato di entrambi. I nostri avversari stanno fuori dal PD, dentro ci sono sane competizioni che portano a questo. E credo che se uno si schiera lealmente e pubblicamente non è mai un male, anzi, quello che fa paura sono i sotterfugi, i lavori fatti alle spalle. La riconferma di Bugetti cambierà qualcosa negli equilibri interni al PD e nella sua giunta? Assolutamente no, questo non c'entra niente. Io ripeto, se il risultato di queste elezioni credo sia figlio anche del lavoro che ha fatto il sindaco e l'amministrazione, credo che da questo punto di vista quei 9 mila voti di Nicola e gli 11 mila voti di Ilaria stanno dentro un lavoro appunto corale e collettivo. Per quanto riguarda i partiti ci sono i congressi, ci sono i confronti, anche lì ci si discute tra di noi, ribadendo sempre che il nostro avversario sta fuori. Nella chiusura della campagna elettorale Eugenio Gianni qui a Prato parlò della proficua collaborazione instaurata anche con lei e di una prospettiva futura per la città anche in ambito culturale. Su quali temi intendete lavorare? C'è già qualcosa in ponte? Su tutti, nel senso che Eugenio Gianni ha riconosciuto che Prato ha dato una straordinaria spinta durante l'ampagna elettorale che poi si è anche rivelata vera e concreta nelle urne. Tutto quello che questa città merita sarà oggetto dell'attenzione della regione e del presidente a partire ovviamente dalle nostre aziende e dal sostegno per quello che spero di sbagliare, temo sia un autunno difficile.